Modificare la terapia basandosi sulle preferenze del cliente è sempre una buona idea, però niente è sempre una buona idea. Nel loro libro che ho prontamente messo sulle mie gambe, ragazzi, non l'ho trovata, sono sulle mie gambe, ce la possiamo fare, nel loro libro Personalizing Psychotherapy, John Norcross e Mick Cooper, teneteli d'occhio, John Norcross lo conoscete, va bene, Mick Cooper, se non lo conoscete, conoscetelo, perché è interessante nel suo lavoro in particolare sul pluralismo, teorico e noi che siamo in una scuola di specializzazione dove insegniamo il modello multiteorico, ovviamente siamo molto vicini a questo tipo di argomenti. John Norcross e Mick Cooper, uno statunitense, un britannico, si uniscono per spiegarci quando è opportuno e come è opportuno e come è utile personalizzare la psicoterapia, perché questo rende più efficace effettivamente la psicoterapia stessa. Si era ormai dimostrato, stiamo uscendo, grazie a Dio, da quel modo di fare psicoterapia eccessivamente protocollare, dove segui neanche fosse una ricetta, che poi quando seguiamo le ricette per cucinare qualcosa, ci troviamo sempre a dover adattare la situazione, perché magari i nostri pomodori non sono così freschi come quelli usati nella ricetta originale, magari noi abbiamo la paletta di legno e non quella di metallo, o magari non abbiamo lo stesso tipo di padella, insomma dobbiamo adattare un pochino la situazione, o magari la vogliamo adattare con la ricetta al nostro stile personale. Ecco, lo stesso vale per la terapia e finalmente si sta iniziando a capire che sta cosa va fatta anche nel nostro lavoro. In realtà la cosa è recepita dall'APA già da quasi una ventina d'anni, però si sta ancora premendo su questo, perché poi alla fine le tecniche ci fanno comodo, no? Però, però, andiamo sempre oltre, andiamo sull'oggetto, personalizzare, che è un po' controverso, personalizzare fa bene, personalizzare la psicoterapia, ma ci sono delle situazioni in cui personalizzarla non è adeguata. E alla fine del loro libretto, John Orcross e Mick Cooper, libretto uscito per l'APA, quindi ragazzi non noccioline, identificano delle situazioni in cui è bene non personalizzare la psicoterapia, quindi in cui è meglio se ti attieni al protocollo, al modo standard di fare le cose. Quali sono queste situazioni? Allora, innanzitutto ci sono degli ambiti, il primo ambito è quello delle diagnosi, cioè ci sono delle diagnosi con cui è bene evitare di adattare la terapia. Le prime che vengono, che riportano i due autori, peraltro con fiorfiori di ricerca, non è un loro pensiero, sono le fasi acute di psicosi, episodi maniacali, delirio, deterioramento cognitivo. Capite bene, non ci vuole proprio il grande scienziato per capire che se con una persona in fase acuta di psicosi o di delirio manacale tu gli dici, ma secondo te come dovrebbe funzionare la psicoterapia? Beh, forse potrebbe non essere una buona idea e le cose potrebbero andare avanti per le lunghe o andare avanti in situazioni che in strade, in percorsi che non vorremmo, non vorremmo battere. Eh, però c'è anche da dire che nel momento in cui questo tipo di persone iniziano ad avere rispetto al loro problema un po' più di autonomia, un po' più di capacità, ecco allora che possiamo far rispuntare fuori l'adattamento della terapia alle loro preferenze per renderli più autonomi. Un altro sempre problema per cui sempre parliamo di diagnosi non va adattata alla terapia, non bisogna stare sulle preferenze del cliente, è con un disturbo in particolare. Le persone con la diagnosi disturbo dipendente di personalità. Anche qui potete capire facilmente che se a questa persona gli dite come vorresti che fosse la terapia, probabilmente ti risponderebbero infinita. È ovvio che anche con loro però bisogna arrivare a un certo punto in cui tu stai favorendo l'autonomia e quindi inizi a inserire delle richieste di maggior scelta, di maggior preferenza da parte loro su come dovrebbe procedere la terapia stessa. Quindi si inizia in maniera abbastanza standard lì sì, protocollare per poi favorire l'autonomia. Ultima categoria nell'ambito sempre delle diagnosi sono le persone con intense oscillazioni relazionali o emotive. Generalmente sono persone che magari a livello diagnostico ricadono nel disturbi borderline, nella ciclotimia, nel bipolarismo ancora, cicli rapidi ovviamente, eccetera. Anche qui è facile capire che con persone che fanno alti e bassi, martedì ti dicono una cosa e mercoledì ti dicono un'altra a livello di preferenza. Ma al di là di questo è bene prima dargli un ancoraggio, quindi essere un po' più direttivi nel modo di fare terapia, tenere un po' più salve le redini più che alto della terapia, per poi anche lì quando il finzionamento migliora arrivare anche con loro a essere un pochino e poi via via sempre più centrati su quelle che sono le loro preferenze. Quindi questo è l'ambito delle diagnosi. Fasi acute di psicosi, bipolarismo, disturbo dipendente di personalità, situazioni con persone emotivamente molto cariche, con forti oscillazioni razionali ed emotive. Qui evitiamo di iniziare con un adattamento alle loro preferenze perché probabilmente non avremo dei grandi risultati. Poi c'è un altro ambito, secondo ambito, che è quello culturale. Molto interessante questo aspetto. Loro fanno riferimento a tutte quelle culture in cui adottare un metodo, uno stile di conduzione più che alto della terapia, che preveda un adattamento, una co-costruzione, un costruire la terapia basandosi sulle preferenze del cliente, quindi chiedere al cliente stesso come preferirebbe fare la terapia, rischierebbe di inficiare la terapia stessa. Semplicemente perché culturalmente quel tipo di persona non è abituata a questo modo di fare terapia. Il terapeuta, il dottore, colui che prende le decisioni, e quindi non può chiedere a me in che modo devo adattare la terapia stessa. Potrei vederlo male, potrei svalutarlo e potrei non sapere cosa dire, potrebbe essere imbarazzante per me. I dottori fanno per esempio riferimento alla cultura degli asio-americani che spesso persegue una posizione paternalista in cui il dottore è quello col camice, è quello che prende le decisioni, è quello che dice, è quello che indica. E quindi se inizia a essere troppo one down, oppure non one down, ma troppo collaborativo, troppo simmetrico nella costruzione della terapia, si trovano per l'appunto a disagio, in imbarazzo, non capiscono neanche perché mi stai dicendo tu mi devi dire fix me, aggiusta, non mi devi dire tu cosa devo fare, non lo devi chiedere a me. Però c'è una piccola soluzione in questi casi. Peraltro io vi invito a pensare anche in Italia, se ci possono essere situazioni culturali dove magari ci si aspetta di più che il dottore faccia più il dottore, faccia meno invece il facilitatore. Ma al di là di situazioni culturali, se ve ne vengono in mente, peraltro scrivetele nei commenti, questo può essere un occhio clinico da adottare con chiunque tu hai di fronte, perché magari non parliamo, non pensiamo solo alle megaculture, alle situazioni culturalmente forti, ampie, ma anche alla cultura, alla microcultura individuale di ciascuna persona, che viene da un ambiente culturale anche semplicemente familiare, in cui magari una posizione paternalista è più adeguata, e quindi la figura del dottore, dello psicologo, dello psicoterapeuta, in questo caso è vista in questo modo, cioè devi dirmi tu cosa fare. Però c'è, dicevo, una soluzione che indicano i due autori, che è quella di sostanzialmente mettere, trovare dei modi più adeguati per farlo, per far funzionare la richiesta di creazione delle preferenze. Cioè che cosa dicono? Loro fanno, parlano di questo escamotage carino, che hanno usato proprio con pazienti asio-americani, ai quali dicevano di scrivere su un foglietto anonimo oppure di mandare delle mail dopo quelle che erano le loro preferenze, anziché discuterle in seduta, perché discuterle in seduta andava contro i loro principi culturali, si sentivano a disagio rispetto a questa cosa, invece poterlo scrivere dopo su un foglietto oppure in un email, dire guarda, questo non mi è piaciuto molto, questo invece mi sarebbe piaciuto di più, è stato molto utile. Arriviamo poi all'ultimo ambito, descritto dagli autori, che è quello dove semplicemente è inapplicabile la possibilità di adattare la terapia alle preferenze del cliente. Ci sono per esempio le situazioni, fanno un esempio peraltro molto pratico, una persona che ti viene con degli attacchi di panico e se ne vuole liberare velocemente ed è disposta a seguire prontamente i metodi che tu gli proponi, che tu hai a disposizione, il protocollo che tu conosci e che funziona, bene, a una persona così dirgli ok, tu come vorresti che facessi la terapia, come dovrebbe essere secondo te, probabilmente può andare a minare l'aspettativa, che è una componente importantissima per il funzionamento, per l'efficacia della terapia stessa. Quindi lui si aspetta che tu gli dia la soluzione e tu dovresti abbracciare questa cosa, che non vuol dire annullare la possibilità che con questa persona ci si possa adattare a livello di preferenze, ma vuol dire iniziare quantomeno con un piglio più deciso seguendo il protocollo standard o comunque le manovre standard che tu faresti, che ritieni necessarie e adatte e andare poi magari successivamente a modificare il corso della terapia e magari a favorire un po' più di autonomia. Se necessario, puoi darsi anche che invece sia quella una terapia che dall'inizio alla fine finisce così. Ci sono altri esempi che sono quando la persona non è molto in grado di nominare delle preferenze. Può capitare, ci sta il paziente che non ti sa dire, magari un po' perplesso, non per una questione culturale, ma per una questione personale, soggettiva, non è in grado di nominare delle preferenze come vorrebbe la terapia. Magari neanche se lo aspettava, aveva un'idea di terapia totalmente diversa, lo cogli in preparato. Ecco, se tu inizi a dirgli ma su dai, qual è la tua preferenza? Come vorresti fare la terapia? È molto importante. La scienza ha dimostrato che adattarsi alle preferenze è una cosa fondamentale. Se inizi a fare questo, lo metti in frustrazione e magari poi ti droppa per un motivo davvero banale o comunque correggibile. Insomma, questi sono i tre ambiti interessanti. Quindi, prima abbiamo detto la diagnosi, il secondo è quello culturale, e il terzo quello in cui è inapplicabile, semplicemente, o comunque non necessario per un adattamento così forte. È importante sapere questo, perché dicevo che l'API, già nel 2007, aveva aggiunto nella definizione degli evidence-based treatment la necessità di adattarsi alle preferenze del paziente. C'è proprio che gli evidence-based treatment, tra le varie cose, si adattano alle preferenze del paziente, proprio perché c'è stato un eccesso di protocollizzazione. Però, tuttavia, dobbiamo ricordarci che niente è vero per sempre. Quindi, non scordiamo che prima di usare le regole e i modelli che sappiamo imparati, che abbiamo imparato a memoria, o che sappiamo usare perché si confanno molto al nostro stile, o perché semplicemente abbiamo studiato molto, prima di usare in modo protocollare questi, è sempre bene usare la testa.